La novità di questa edizione è Extra Kitchen, ovvero un concorso che premia i migliori piatti ecosostenibili. Le famiglie e le scuole potranno competere prendendo spunto da 50 ricette innovative realizzate dallo chef Gabriele Costantino, ma c'è anche la caccia al tesoro a colpi di click per fotografare azioni ecosostenibili e tante altre attività dedicate a giovani e famiglie nell'ambito dell'ottava edizione di Energicamente, il progetto educativo sul risparmio energetico con cui Extra, primo operatore nelle marche nel settore delle energie elettriche e del gas, in collaborazione con Legambiente, avvicina i ragazzi alle buone pratiche ambientali. Ad oggi sono più di 150 le scuole coinvolte, 170 docenti, 78 squadre con percorsi ludici didattici per i bimbi, corsi di formazione per gli insegnanti, percorsi di alternanza scuola-lavoro per i ragazzi. Il progetto è sempre più arricchito, si va dall'alternanza scuola-lavoro dei ragazzi delle scuole medie anche a un corso di formazione molto importante per i docenti, c'è un coinvolgimento di famiglie, studenti e docenti, quindi una comunità scolastica e familiare che apprende e si educa nel segno dell'energia, del rispetto dell'ambiente. Un percorso anche di grande consapevolezza e responsabilità nell'uso della risorsa energetica e poi ovviamente come sempre fanno i ragazzi, danno massimo sfogo ovviamente alla loro curiosità, alla loro immaginazione e ovviamente il contatto con il mondo del lavoro, come accade per l'alternanza scuola-lavoro, permette loro veramente di avere tantissimi nuovi stimoli e di creare anche opportunità per il loro futuro. Vuol dire investire nel futuro, vuol dire dare il nostro contributo all'educazione, all'educazione intanto ambientale, su cui devo dire che i ragazzi sono bravissimi e all'attenzione per la convivenza civile, all'attenzione per il territorio da parte di tutti. Investire appunto, secondo la nostra responsabilità sociale, investire in valori legati appunto all'ambiente, alla tutela dell'ambiente, al risparmio energetico. Per noi è una delle azioni che abbiamo messo in campo su questo tema del risparmio energetico che è fatto di comportamenti individuali e quindi il tema dell'educazione civica, diciamo così, è fondamentale. Grazie. Grazie.